Si parla di quello che arriva nel Paraguay dal Brasile, ma non di quello che il Brasile porta nel Paraguay. Qualunque tipo di crimine. I raffinatori di banche in Brasile sono al vertice della criminalità. Parliamo di vari gruppi che si sono uniti per formare quella che probabilmente è la più grande gang di raffinatori di banche del mondo. Tu che cosa sai di Senzalino? Nessuno sa molto di lui, ha spuntato all'improvviso e ha guidato tutta l'emazione. I ladri non hanno paura di lasciare tracce perché in Brasile il DNA non viene usato per questi crimini. Mani sopra la testa! DNA non ha mai risolto un caso. E tu non sei mai andato subito d'accordo con un partner? Fermo, fermo, fermo! Venga, venga, venga! Torna indietro! A terra, a terra, faccia a terra, forza! Cercava il DNA, vero capo? E' finita l'ora del bagnetto. Valenzia federale, si andate subito alle ormi! Vai, vai, vai! A terra! Adesso dobbiamo fare quello che è giusto fare, per prendere l'uomo che dobbiamo prendere. Vai, vai, vai!